È una partita che vale tre punti e quindi è una partita da quel punto di vista lì, per quello è importante, per quello. Vedremo di valutare Yao nell'arco delle due partite, forse avendo giocato tre partite ravvicinate potrebbe... Vediamo una delle due tra domani e Venezia, è uscito, l'avete visto, è uscito il sabato con qualche lavoretto in settimana. Oggi sono questi, ora dobbiamo fare tamponi e poi dobbiamo fare allenamento, quindi queste sono quasi sicure. Yao vediamo un attimino la disposizione. C'è Siligardi che ha preso una pedata in allenamento, speriamo che la smaltisca oggi, ieri non si è allenato. Poi altre cose al momento no, penso che siano già abbastanza. Non vogliamo assolutamente ricadere in alcune situazioni, ma Andrea Costa è a disposizione sia per domani che per lunedì. Vediamo che minutaggio dare sia domani che lunedì o una delle due, vediamo un attimino, però Andrea Scensi. La squadra sta lavorando, ha una sua idea. I ragazzi stanno in merito dei calciatori per la qualità che mettono nel lavoro, nell'impegno. Ne hanno fatto buone partite, altre meno buone. Un'alternanza di alcuni risultati che ci ha visto penalizzati oltre misure ed altri invece favoriti, in maniera che forse è in età come con l'Ascoli, però la squadra sta bene, sta lavorando bene e vedo una consapevolezza, una maturità importante. Io ho sempre avuto fiducia nella squadra, sempre. So qual era il percorso e non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, nemmeno di una virgola. So che fino all'ultimo noi lotteremo per quell'obiettivo, per quel risultato. La squadra è sul pezzo, è concentrata.